Però la cosa importante l'ho imparata. Cosa? Saper disinnescare. Cosa? Non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, insomma, riesce a fare un passo indietro. Invece sta un passo avanti.